Buongiorno ragazze e benvenuti in questa bellissima e nuovissima beauty morning routine Io mi presento, mi chiamo Anto, romanaccia doc ma da 8 anni vivo in piccolo poesino sperduto delle marche e oggi ufficialmente sono la fondatrice di una linea cosmetica che si chiama Vanille e oggi è il mio primo giorno ma prima di farvi vedere tutto quello che è successo in queste settimane prima novità la famiglia si allarga ed eccola qui ve la presento la signorina Lily Elizabeth di Windsor ma per gli amici Lily e io da una settimana mi sveglio con questo piccolo animaletto che mi sbaciucchia dalla mattina fino alla sera e ora siete pronte ragazzi e mi ha aiutato un sacco anche a rendere più easy il primo lancio di Vanille che è stato veramente tanto impegnativo e l'ho pensato con questa bellissima beauty box un air care completa per capelli densi e corposi un trattamento ridensificante con attivi praticamente che vanno a stimolare le radici e una volta aperto tutto questo bellissimo cofanetto troverete all'interno tre prodotti il primo che è il mio preferito è lo shampoo il primo trattamento anche perché chiamarlo shampoo è davvero riduttivo tant'è vero che va tenuto in posa anche un paio di minuti quando lo utilizzate all'interno c'è un concentrato di acidi ialuronici a basso ed alto peso molecolare che applicato su qualsiasi tipo di capello crea praticamente una sorta di barriera che va a ispessire le cuticole rinforzandole e migliorandole la resistenza a stress termici e meccanici poi abbiamo anche l'estratto di fieno greco biologico che svolge invece un'azione idratante e linitiva sul cuoio capelluto ne previene e ne contrasta la caduta e promuove la crescita rendendoli lucenti corposi e voluminosi ed è anche un formidabile alleato contro la forfora come si applica su cute e capelli bagnati si massaggia delicatamente importante lasciarla agire come vi dicevo prima per un paio di minuti e poi risciappiamo e poi che meraviglia ragazzi c'è lei che è la maschera quindi il secondo step di questa fantastica air care routine e all'interno ho voluto sempre mantenere la presenza dell'acido ialuronico però ci ho voluto far aggiungere anche la creatina vegetale che è uno dei miei ingredienti preferiti proprio per i prodotti dedicati ai capelli che serve a riparare e dare forza e vitalità appunto ai nostri bellissimi capelli allora come si applica sicuramente dopo lo shampoo come state vedendo lo vado ad applicare sia su tutta la lunghezza che ovviamente anche sulla cute ragazze perché è un trattamento ridensificante quindi dobbiamo prestare attenzione anche e soprattutto alla cute quindi non ingrassa non vi doglie il volume non dà pesantezza una volta che l'avete asciugati poi insomma lo proverete e mi saprete dire la tengo in posa dai 15 ai 30 minuti e poi risciacquo piccolo trucchetto che volevo darvi nel prossimo video ma sapete che non mi so tenere neanche un cecetto e quindi volevo dirvi che la sera ne prendete poca 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 la massaggiate prima tra le mani quindi la scaldate e la applicate su tutti i capelli come se fosse un siero notte vi sveglierete il giorno dopo con dei capelli super morbidi garantito ricapitolando abbiamo fatto lo shampoo per proteggere i capelli la maschera che lo nutre e adesso ci occupiamo proprio del cuoio capelluto con questo siero che è una bomba di vitalità praticamente è un siero crescita come l'ho chiamato io all'interno abbiamo fatto inserire la caffeina ed è formulato proprio per aiutare a rinforzare le lunghezze e all'interno in laboratorio abbiamo deciso di applicare di aggiungere in formula anche la glutamina e l'arginina che sono due aminoacidi spettacolari per quanto riguarda i prodotti per capelli la glutamina consente infatti la formazione dei capelli vi attacco questo pippotto ma ci tengo davvero tanto la formazione dei capelli perché è una fonte di zolfo e l'arginina ha un impatto formidabile sulla crescita perché ha un effetto proprio vasodilatatore quindi favorisce la crescita dei capelli e può portare quindi a una maggiore erorazione sanguigna proprio alla radice ecco perché l'ho chiamata il routine ridensificante con attimi che stimolano le radici e quindi ragazzi tutti i prodotti possono essere finalmente acquistati sul sito di Vanille sia separatamente che all'interno della bellissimi box come l'ho chiamata io e cosa faccio adesso che è arrivata Vanille? prima di mettermi al lavoro però faccio una bella colazione perché ci sta con un cheesecake che volevo condividere un po' con voi che so che vi piacciono sempre le ricettine fit infatti è un cheesecake appunto light insomma come piace a noi e all'interno direttamente del bicchierino inizio con uno strato di avena croccante, yogurt greco con zero grassi, marmellata di lamponi e poi completo sopra con frutta a piacere avendo messo la marmellata di lamponi quindi faccio lamponi e zucchero a velo ed eccomi qui alle prese invece con le foto da mettere sul sito ragazzi mi sono messa in testa di provare a giocare con la schiuma cioè la mia intenzione è bagno schiuma faccio un po' di schiumetta la metto sopra il prodotto e faccio le foto magari viene bene quindi non vedo l'ora di farvi vedere il risultato ma soprattutto non vedo l'ora di raccontarvi tanti altri dettagli nel prossimo video io vi aspetto quindi su vanillecosmetics.it e nel frattempo vi mando un bacio ciao ragazze ciao 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 Grazie a tutti.